Oggi voglio parlare di un argomento veramente molto molto importante Importanze E voglio spiegarvi il perché è così fondamentale Perché qualsiasi batterista del mondo famoso, non famoso, insegnante che sia Dica sempre bisogna registrarsi, bisogna registrarsi Adesso però voglio collegarmi un attimo con il titolo di questo video Perché avrete visto il titolo e adesso avrete detto Ma cosa c'entrano le due cose insieme? Perché praticamente vi spiego 7-8 anni fa, più o meno, avevo 19 anni E sono andato per la prima volta praticamente in un vero studio di registrazione A registrare il mio primo album, l'album con la mia band Che tra l'altro se volete sentire qualcosa, vi potete sentire un po' di anni fa Vi lascio tutto qui sotto in descrizione che c'è il coso che vi riporto a Spotify eccetera eccetera Comunque tornando a noi Sono andato in studio i pezzi, li sapevo veramente veramente benissimo Sapevo i groove perfettamente come dovevano essere, tutti i fill Mi ero studiato praticamente tutto in memoria, stacchi eccetera eccetera Ma normale, come deve essere quando si va in studio Quando si va in studio bisogna sempre sapere bene quello che si vuole fare Poi ovviamente ci sono dei punti, dei fill in cui possiamo improvvisare Questo poi sta anche un po' un attimino a noi, alla nostra preparazione, al nostro livello eccetera Però bisogna essere veramente molto molto preparati Ma ci sono stati alcuni punti durante la registrazione in cui ho avuto dei problemi Non tanto a suonarli, a suonarli nessun problema Ma poi nel momento in cui li ho riascoltati Il problema principale è quello che mi ha fatto anche dire Ecco perché serve così tanto registrarsi Sono stati soprattutto alcuni fill molto molto semplici Che pensavo di fare al meglio, pensavo di suonarli perfetti E in realtà non era così I passaggi in questione erano passaggi molto semplici Che finivano quasi sempre con due colpi di destra sul timpano Anche solo ad esempio questo Quindi praticamente era un fill del genere Il problema è stato proprio negli ultimi due colpi di destra con il timpano Cosa succedeva? Praticamente io suonavo rullante e tom Che erano colpi singoli Alla fine uno di destra e uno di sinistra Molto forti Mentre gli ultimi due Dato che non avevo ancora probabilmente la tecnica giusta Dato che non avevo ancora abbastanza potenza Non si sentivano questi colpi Quindi anziché essere come li ho suonati adesso Risultavano questa cosa qua Questo significa che nel momento in cui andiamo a sentire la registrazione Noi non sentiamo tutti e quattro i colpi Sentiamo solo i due colpi di rullante e tom Il timpano sparisce completamente Perché se è suonato con questo volume Già si sente poco in confronto agli altri due Pensate poi ancora con tutte le altre registrazioni di chitarra Di voce di basso eccetera 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 Quindi io non davo troppo peso agli ultimi due colpi È un problema Questo è solo un esempio Quello secondo me più eclatante Perché non riuscivo praticamente neanche a fare un passaggio molto molto semplice Magari sul groove facevo cose molto più difficili E poi mi perdevo in questa cavolata qua Poi ovviamente voi magari mi direte Sì vabbè Luca però eri in studio di registrazione Quindi alla fine quel timpano te l'avrà messo a posto eccetera eccetera Tanto in studio di registrazione ormai si può fare di tutto Ok non mi ricordo neanche se me l'avrà messo a posto Se aveva solo cercato di tirarmelo su di volume Come ha potuto perché ha fatto una fatica pazzesca Poveretto lui che ha dovuto lavorare su quelle tracce Ma sì è vero In studio di registrazione le cose si possono mettere a posto E in realtà se c'è qualche piccolo errorino Secondo me con le possibilità che abbiamo oggi E anche giusto ci sta Ovviamente non deve essere troppo Però io non sono contro completamente l'editing Contro quelle minime cose che magari mettiamo a posto Beh così non dobbiamo rifare tutta la traccia completamente da zero Se una traccia è fatta tutta perfetta tranne un punto Non dobbiamo risuonarla Mettiamo a posto quella cosina che abbiamo E va bene così Però questo non deve diventare troppo Nel senso questo non deve diventare il triggerare completamente la batteria E fare la batteria perfettamente tutta tempo Che sembra suonata da una macchinetta Questo no Questo sono completamente contro Il fatto non è questo Il fatto è che sì In studio di registrazione si possono mettere le cose a posto Ma poi quando andiamo a suonare live Che cosa succede? Tra l'altro non è solo per una questione di come viene un album Di come viene la registrazione eccetera Alla fine Ma è proprio per una questione nostra Di come suoniamo E di imparare certe cose da questi errori Perché da questa cosa che mi è successa Ho detto Cacchio Luca hai sbagliato perché? Perché io cosa ho fatto? Ho pensato solamente a studiare bene il pezzo E saperlo bene a memoria Ma non ho pensato a come veniva veramente quel pezzo Quindi non ho pensato di registrarmi in qualche modo E di capire se quello che stavo suonando era veramente giusto E andava veramente tutto bene Poi in realtà le registrazioni sono andate anche bene Ci sono stati questi piccoli errorini ogni tanto Che però mi hanno dato fastidio E mi hanno fatto crescere In realtà mi hanno fatto crescere moltissimo Ma se mi fossi registrato Come mi avrebbe potuto aiutare il fatto di registrarmi Per questa cosa che ho fatto? Molto semplice Se avessi visto che quando suonavo due volte Il timpano con la mano destra Questa cosa non si sentiva O cercavo di studiare per potenziare proprio questa cosa Cioè proprio queste due note con la mano destra Oppure seconda cosa Per la registrazione Anziché cercare la comodità E dire faccio due di destra sul timpano E poi suono il cresco alla sinistra Avrei potuto tranquillamente dire Suono tutto destra-sinistra Così faccio rullanti di destra, tom di sinistra Timpano e timpano destra-sinistra Così non ho problemi di volume E sono sicuro di riuscire a darci la potenza giusta Quindi questo qua alla fine è solamente un esempio stupido Ma mi ha fatto capire veramente Come tante volte diamo delle cose per scontato E come delle volte pensiamo che delle cose siano semplicissime Quando in realtà ci sono delle insidie ugualmente Che andiamo a scoprire solo nel momento in cui ci registriamo E oggi ho parlato di questo film Ma in realtà funziona per qualsiasi cosa Può funzionare per i feel Può funzionare per i groove Dove magari capiamo che l'equilibrio tra i pezzi della batteria Ad esempio l'equilibrio tra il cialisto e il rullante Non è perfetto Magari suoniamo troppo forte il piatto E troppo poco forte il rullante O viceversa Oppure ad esempio sul tempo Dove possiamo fare dei minimi errori Magari a tempi molto bassi E mentre suoniamo ci sembra tutto a posto Quando poi ci ascoltiamo È tutto fuori tempo Una roba assurda Quindi ognuno si registra per capire quali sono le sue lacune Quali sono le cose da mettere a posto E poi ci sono sempre cose da mettere a posto Quindi non vi preoccupate Registratevi che qualcosa lo trovate E ah ecco una cosa importante Non è che adesso dovete andarvi a comprare la scheda audio I super microfoni Il computer ultima generazione No Il vostro cellulare va benissimo Registratevi con cosa avete Non preoccupatevi troppo della qualità audio Perché? Perché tra l'altro Se noi ci registriamo con una super qualità audio Tante volte è peggio Per quello che vogliamo fare in questo momento Per capire quello che stiamo sbagliando Perché se suona tutto bene Se suona tutto bello Registratevi anche col vostro cellulare Audio schifoso Non c'è problema Più la qualità è bassa Più si sentono le cose che non vanno Detto questo Io Poso le bacchette La finisco qua Spero di esservi stato utile Come al solito Fatemelo sapere Mi raccomando Qui sotto nei commenti Se avete qualsiasi domanda Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Se avete qualche commento Fatemelo sapere qui sotto nei commenti E tra l'altro Ecco una cosa importante Scrivetemi Quali sono state le vostre esperienze In studio di registrazione Se ne avete avute Se avete avuto dei problemi Se è andato tutto liscio Se... Ditemi cose Io vi ricordo come al solito Di iscrivervi al canale Di cliccare sulla campanellina Per rimanere sempre aggiornati Sui miei video Come sempre di andare sui miei social Instagram e Facebook Soprattutto Instagram Punto più su Instagram E basta Noi ci vediamo al prossimo video Quindi commentate Ci vediamo Mettete un mi piace Ciao